C'è un problema con il mio amico Dino. Tutti lo state prendendo tra qui in giro e si dite che lui non può fare il bugger, che lui non può giocare con qualcuno. Io sento davvero che deve passare un messaggio per farci vedere che anche lui può giocare con qualcuno, perché non è giusto che ci siano ancora queste discriminazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.